apriamo il barattolo e incolliamo i cerbiatti sul tappo la neve la facciamo con la gomma da cancellare, grattugiamo il bianco e infine uscirà questo riempiamo la pentola di acqua tiepida e immergiamo il barattolo stando attenti a non far uscire la neve il barattolo con il tappo fatto precedentemente chiudetelo bene, stringete chiudetelo 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 Grazie a tutti.